Opera Land è un progetto dedicato alle scuole elementari e medie del territorio di Genova ma anche della provincia. L'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al teatro dell'opera. Per farlo abbiamo creato un format in sostanza che prevede la visita guidata al teatro Carlo Felice, dove molti ancora non sono entrati, due laboratori che andremo a fare direttamente nelle scuole, quindi siamo noi che portiamo l'opera in classe, il teatro in classe. Infine ci sarà lo spettacolo dedicato appunto ai ragazzi, abbiamo scelto il Don Pasquale, un'opera buffa di Gaetano Donizetti che verrà presentata in un allestimento più adatto alle giovanissime generazioni. Abbiamo questo bellissimo teatro a Genova, il teatro Carlo Felice, dove appunto vogliamo portare i giovani e i giovanissimi nella speranza che siano il pubblico di domani ma perché no magari anche i lavoratori dello spettacolo di domani. La città ha risposto veramente in maniera positiva, c'è stato molto interesse da parte delle scuole e in un mese abbiamo raccolto già 650 studenti, stiamo già superando questa cifra, quindi questo ci invoglia ad andare avanti, pensiamo di essere sulla strada giusta. Esiste purtroppo un po' una distanza fra i ragazzi di questa generazione e il teatro, infatti secondo me il loro stupore oggi è stato veramente notevole, proprio perché ci sono un po' di barriere psicologiche tendenzialmente, però sono proprio delle carte bianche, quindi sono tutti da scrivere, in realtà nel mondo della scuola e dell'istruzione dobbiamo fare proprio questa battaglia per cercare più che altro di spiegargli che c'è tanta diversità, la musica non è una sola, quella che fruiscono abitualmente attraverso la radio, la tv eccetera, i social, ma appunto esiste questo potenziale enorme, secondo me io noto che rimangono molto stupiti, molto interessati. Il palco, il retroparco è un po' tutta la platea con i posti, pensavo che ci fossero meno posti perché mi sembrava più piccolo e tornerò a vedere qualcosa. La scenografia e il sistema complesso di palchi. Avevo già visto la macchina teatrale in una precedente gita, poi ho visto Notre Dame de Paris a un concerto di Paganini. Possa rappresentare molti stati d'animo, è molto importante per me.